Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio nuovo video del Wolfsmanterren Azzurro oggi ragazzi due giorni dopo la disfatta mondiale parliamo di come secondo me è arrivata questa sconfitta che non è arrivata solitamente per caso ma è arrivata dopo una serie di pensazioni super deludenti dopo un periodo del post vittoria dell'europeo veramente negativo prima di iniziare vi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e fammi un bel commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti iscrivetevi in tanti perché voglia di valere 115 iscritti allora ragazzi dal primo punto per me andrò a fare una scaletta di punti di quelle che secondo me le cose che non sono andate in questa partita per me ragazzi allora praticamente hai dominato possiamo dire la partita dal primo all'ultimo minuto sotto il piano del gioco ma ragazzi è noto che mi dicono le occasioni che create avrai fatto anche 40 tiri come dicono le statistiche ma ragazzi ne hai fatti 3 in porta praticamente tutti i tiri sono stati rimpallati dalla difesa ragazzi hai fatto 3 tiri in porta quello di Verratti nel suo primo tempo quello lì di Berardi che ha tirato in bocca e basta 2, 2 sì 2 è quello di Berardi che ha salvato quel giocatore lì il difensore in calcio d'angolo ma Dimitrescu non è mai stato Messi in serie a difficoltà poteva mettere Berardi in serie a difficoltà ma ragazzi si è mangiato due gol assurdi Berardi no quello lì vabbè è imbarazzante mangiare sui gol così è veramente ridicolo perché ragazzi te la passano dite ragazzi lì devi buttarla dentro in una partita così importante non puoi tirare molle di precisione devi tirare di forza potente e preciso c'è poco da fare mio Berardi te lo sei mangiato quell'altro gli ha dato un gran pallone Verratti ha fatto un bello stop e poi ha calciato grande chiusura del difensore lì ok però comunque sicuramente poteva fare meglio anche lì e lì ragazzi si vede l'inesperienza come ho detto anche ieri nelle pagelle e poi ragazzi comunque la cosa che pesa di più sono ragazzi gli eroi di Giorginho in Svistra-Italia nella doppia sfida perché ragazzi sbagli il rigore nell'andata contro la Svizzera è Gironi e fin lì di pazienza al ritorno sempre nei Gironi all'ultimo minuto ragazzi ti ripresenti sul dischetto e sbagli un'altra volta ma allora veramente che te ragazzi te Giorginho ci volevi portare fuori da sto mondiale poi dopo una prestazione imbarazzante che hai fatto ieri veramente faccio due domande il giocatore è strasoparvalutato dopo l'europeo madonna il miglior sottocampista del mondo non esageriamo ragazzi non esageriamo ci ha trascinato ha fatto delle grandi prestazioni all'europeo però ragazzi non è mai finito l'europeo dopo l'europeo ha fatto un macello totale un disastro più totale sembra veramente il cugino è scemo veramente poi un altro punto ragazzi che il Gironi era semplicissimo un Gironi che dovevi passare occhi chiusi secondo me perché Svizzera, Bulgaria, Irlanda del Nord e l'Ituania un Gironi così se non passi da prima veramente che rischino di andare al mondiale infatti ci siamo andati perché avevamo un sacco di vantaggio poi nelle ultime cinque partite ragazzi abbiamo fatto solo una vittoria e quattro pareggi contro ragazzi Bulgaria 1 a 1 quella ragazza è stata una partita cardine che ci ha fatto veramente perdere un sacco di punti poi a lungo andare poi i due pareggi con la Svizzera il pareggio indegno contro l'Irlanda del Nord dove è segnato a zero gol fare zero gol ragazzi a l'Irlanda del Nord diciamo che non è fattibile poi fare quattro pareggi con queste squadre non è una cosa fattibile e infatti ti meriti poi di non passare direttamente al mondiale e di fare questi cazzo di spregi che ragazzi questi spregi ci facciamo cagare al cazzo punto dobbiamo capirlo e poi sì gli zero gol fatti un altro emblema sono gli zero gol fatti contro l'Irlanda del Nord e macedonia gli zero gol fatti 180 minuti ma te ragazzi voi ragazzi se piccola Italia se giocavate altri 90 minuti contro la macedonia non lo facevate il gol non lo facevate non lo facevate abbiamo una difficoltà in mane a buttare dentro una cazzo di palla gli attaccanti non segnano più neanche con le mani ma anche all'Europria diciamo un po' abbiamo segnato un po' di più però comunque non c'è mai stata la punta la punta vera perché mobile ragazzi ha fatto un gol ha fatto un gol all'europeo di tutto l'europeo ha segnato gli esterni i centrocampisti i difensori ma lui ragazzi non ha segnato il mobile il mobile è il fratello scemo in nazionale veramente un giocatore che non riesce a esprimersi ai livelli della razza questo ormai è chiaro i ragazzi gli ho sempre detto mettere scamacca ma perché è serotto va bene però è ora di mettere scamacca punto c'è poco poco da fare poi adesso passiamo comunque agli errori secondo me di Roberto Mancini secondo me sono gli errori di Mancini che ragazzi non convoca neanche Belotti e Tadagnolo cioè le ha chiamate ovviamente per 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 queste qualificazioni però oggi in tribuna perché sicuramente era sicuro di vincere oppure perché non li vede come giocatori pronti ho capito ma Belotti vuoi portare in pagine che c'è solo l'immobile a punta di ruolo c'è solo l'immobile che poi fa pena in nazionale a punta di ruolo ma portami a meno Belotti Scammacca è rotto va bene c'è Raspadori va bene ma non è una punta è una seconda punta trequartista c'è Giopeto ma non è una punta non è una punta cazzo una punta di ruolo non ce l'hai a parte immobile Belotti non me lo puoi non convocare poi Tadagnolo se non vuoi far partire da inizio che ci sta sul cazzo però è un giocatore che deve deve essere convocato almeno un giocatore che deve essere convocato perché ti può spaccare la partita un giocatore a me fa il pazzire non ha fatto benissimo quest'anno però ha le qualità per scardinare la ragazzi la difesa della Macedonia secondo me faceva entrare al 60esimo per me ci poteva dare una mano come anche Belotti e anche se Belotti in nazionale è più o meno come Immobile forse forse quasi meglio però è più o meno come Immobile e i cambi per me sono stati un po' troppo tardivi perché mi fai entrare al 90esimo ma poi mi fai entrare prima però mi hai giocato 30 minuti senza punta hai buttato fuori Immobile per far entrare l'Aspadori che non è una punta poi cazzo mi dice che cazzo mi rappresenta una pesa per il culo per il giocatore che poi ha anche sfiorato il gol nel finale ha anche sfiorato il gol nel finale diciamo qualcosa di veramente fuori dal mondo fuori dal mondo e questa ragazza è una disfatta ovviamente perché una disfatta che rimarrà nella storia ovviamente come terzo anno che in Italia non va in mondiale nella sua storia secondo consecutivo quindi ragazzi pensate come si è messi e forse se andremo al prossimo dovremo ospitarlo perché Mancini ragazzi le prime difficoltà ha fatto vedere che non è riuscito a tenere la squadra come volia perché comunque ragazzi sulla carta abbiamo dei giocatori fantastici cioè sulla carta veramente c'è poco da dire non si è toccato Balera di Ciasino Verratti uno dei migliori nel mondo c'è poco da fare e le prime difficoltà è andato nel pallone è andato nel panico non è riuscito a gestire questo gruppo l'entusiasmo è andato a farsi fottere siamo adagiati sugli allori abbiamo pensavamo sicuramente di portare a casa questa questa qualificazione occhi chiusi contro la Macedonia per poi andare a sfidarci contro il Portogallo e invece invece di pensare alla sfida contro il Portogallo già a martedì dovevamo pensare a questa sfida non l'abbiamo fatto e infatti ragazzi questi sono i risultati che ti vedono coinvolto poco da dire ragazzi questo è il mio video facendo sempre qui sotto i commenti per voi le vostre cause di questo fallimento il secondo consecutivo fallimento italiana mondiale e noi ragazzi siamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.